faremo il concerto anche con i rom i concerti sono per tutti perciò l'abbiamo voluto fare e subito dopo il primo gennaio ci sarà in modo diverso rispetto a quello che si era prospettato una sistemazione delle famiglie in modo assolutamente adeguato sapete che là il ritardo non è stato nostro ma la caserma Boscariello ci è stata data con un ritardo clamoroso e allora a questo punto noi abbiamo lavorato su altre opzioni e quindi immediatamente dopo queste festività in modo da far partecipare anche loro al concerto il primo dell'anno ci sarà una sistemazione adeguata e non andranno per ora queste famiglie nella tendopoli attrezzata la caserma Boscarie